Siamo nati, ha promesso di ridurre i costi, ma invece, per tratti come da mano, come da con mano, si è reso rispossare gli altri aumenti, minimo di 20 euro per queste cose. Ed eccoci qua, ed eccoci qua dire, noi non ci stiamo a questo giorno, noi non ci stiamo a questo progressivo aumento dei prezzi, a questo progressivo dettagliamento dei seguiti, noi siamo qua per dire che non ci stiamo, non ci stiamo assolutamente. Ed eccoci contro questo progressivo rincaro dei seguiti e questo loro progressivo deterioramento, noi non ci stiamo, fatemi sentire, fatemi sentire ragazzi!